Ieri sera a Stasera Italia, scontro pesante tra Sallusti e Gubitosa. Lei è onorevole, lei ha un capo... Ma la Meloni che dice che non sopporta più i suoi parlamentari, non è un fatto politico. Scusami, scusami. Sallusti, la Meloni che dice che non è più disposto a sopportare i suoi parlamentari. Gubitosa deve aspettare che finiscano gli altri come a scuola e poi dopo parla lei. Un attimo, sentiamo Sallusti. Non l'hanno mai capito. Allora, lei, in quanto a pericolosità, le ricordo che il fondatore del suo movimento ha ucciso due bambini e una donna e non se ne è assunto la responsabilità. È stato condannato in via definitiva. Le ricordo che voi avete avuto un ministro come Toninelli e se non bastasse, le ricordo che lei si presenta a parlare del Presidente del Consiglio con un golf, con un'acca stampata qui che non si capisce bene cosa vuol dire che in quanto adeguatezza lascia desiderare. È una maglia normale. Sta parlando del look di Gubitosa, giusto? Sallusti? Tra le tante cose... Sono tutti i poteri forti, sono i poteri finanziari, i poteri economici, i poteri del sistema costituito, cioè di quel sistema che governa nell'ombra il Paese. Io credo che questi poteri si oppongono a qualsiasi premier, non è che si oppongono solo a Giorgia Meloni, perché vogliono combannare loro. Solo uno stupido può sostenere che in una democrazia non esiste un potere parallelo che cerca di... Prima di continuare con il video però, vi chiedo un favore di iscrivervi al canale. È gratis, ogni giorno troverete nuovi video. Cosa aspettate? di condizionare il potere legittimamente eletto. Ecco, lei oggi ha detto, signori, questi poteri esistono, ma io non mi piego le loro richieste, non sono ricattabile, vado dritta per la mia strada. E questo fa uscire di matto tutti, dalle opposizioni ai poteri forti. Gubitosa, tra poco vengo...